Salve a tutti, il mio nome è Silvio Passalacqua, sono un italiano, sono il gestore del sito internet www.ox.it, come puoi vedere qua, as you can see here, this is Italian site, questo è un sito italiano, tu puoi vedere in questo sito una serie di notizie e avvenimenti italiani, ma principalmente è un sito antibufala, antibufala significa che mi occupo di verificare le notizie che vengono diffuse dalla stampa italiana su internet, ma in questo sito non trovi solo questo tipo di verifica, non è il classico sito antibufala, è un sito che ti permette di trovare una serie di risorse come antifishing, antispam, antivirus e consigli utili alla navigazione. Mi trovo in Spagna, per me è un onore essere invitato a rappresentare l'Italia, l'Italia è grande, può dare tanto, grazie ai nostri cervelli. Visitate il mio sito, vi ringrazio per l'attenzione e potete contattarmi e scrivere per qualsiasi informazione, sono a vostra disposizione, come esperto di sicurezza informatica. Questo è il mio sito, potete visitare anche il mio sito personale www.silviopassalacqua.it o contattarmi via email posta-silviopassalacqua.it